buongiorno ben trovati siamo in questo orto e metà di settembre ben trovati in questo nuovo video siamo alla metà di settembre abbiamo superato la metà di settembre volevo fare un breve aggiornamento su quello che abbiamo nell'orto questo è un orto naturale assolutamente naturale terrazzato su tre terrazzamenti con un sistema abbozzato agroforestale nel senso che ho inserito le piante da frutto per il contenimento dei terrazzamenti stavo notando che appunto essendo la metà di settembre abbiamo un abbondanza incredibile ancora di pomodori qua ci troviamo in italia del nord molto nord nel senso che a un chilometro da qua siamo in svizzera quindi sorprendentemente questi pomodorini e pomodoroni sono ancora belli rossi dopo la metà di settembre come ho coltivato questi pomodori li ho coltivati assolutamente con un metodo più che naturale non neanche messo il bastone per sorreggere l'ho piantati in quella zona di lì e questi a cascata sono arrivati fino da questa parte senza neanche sfemminellare quindi lasciandoli assolutamente correre come meglio credevano e guardate la metà di settembre sono ancora belli vispi e in produzione addirittura con fiori e tutto quanto ovviamente le giornate si sono ridotte in termini di luce parecchio qualche pomodoro chiaramente sarà anche un pochettino rovinato ma nel complesso direi che questa giungla di pomodori sta regalando parecchi risultati allora siamo a due terzi circa di raccolta delle dei pomodori abbiamo una trentina di piante questi sono ancora i pomodorini i miei preferiti allora altra cosa da dire che comunque questo orto non solo è naturale ma è proprio selvaggio nel senso che questi pomodori sono cresciuti senza essere irrigati salvo il primo periodo dopo il trapianto quindi di fatto stando sul terreno con la pacciamatura e con queste piccole attenzioni hanno prodotto una discreta quantità di pomodori devo dire che all'inizio stagione ero un po preoccupato perché soprattutto i primi primi periodi dopo dopo avere piantato le piante quindi da maggio in poi non avevo grandi riscontri in termini di produzione dopodiché quando le piante sono entrate a regime hanno iniziato arrivare parecchi parecchi pomodori le piante che mi hanno dato più soddisfazione sono queste qua dei pomodorini piccoli e in anche in termini di produzione di sapore sono sicuramente i miei preferiti mentre quelli un pochettino più grossi pezzature o più tondeggianti fino a quelli costoluti hanno un po più di problematiche con questo tipo di allevamento le perdite perché sono attaccati da insetti o animali sono un po più elevate non penso che la produzione andrà avanti ancora per molto essendo comunque a metà di settembre però qualche pianta inizia già a essere bruttina attaccata un po dalla peronospera però abbiamo ancora le gemme vitali e quindi le piante stanno portando a termine quanto meno i frutti che hanno ancora sopra ecco per esempio questo pomodoro comunque è stato mangiato in qualche modo da qualche animale per cui non sarà servibile queste appunto le varietà un po più grosse sono quelle un po più soggette a essere attaccate trattamenti particolari non ne ho fatto mi piace pensare che sia stato sufficiente la preparazione del terreno quando al momento dell'impianto per cui con una bella dose di compost autoprodotto e una sistemazione anche in termini di sistemazione proprio del terreno con la giusta pendenza e attenzione per caricare l'acqua piovana in modo che le piante riuscissero ad approfittarne di ogni goccia di acqua che arrivava sul terreno e questo è il risultato sicuramente applicherò ancora l'anno prossimo questa tecnica sposteremo magari i pomodori da qua da un'altra parte giusto per fare un minimo di rotazione e vediamo adesso completiamo la raccolta bene 30 piante di pomodori più o meno abbiamo riempito quasi un secchio abbiamo fatto la parte più bassa appunto del terrazzamento adesso ci dobbiamo fare dobbiamo fare un gradino e passare alla parte sopra dove sicuramente troveremo degli altri pomodorini ad attenderci la cosa bella di questi pomodorini quelli piccoli appunto che facevo menzione è che ormai è una varietà che di anno in anno mi spunta direttamente nel giardino io quando faccio quando faccio la raccolta magari oppure anche quando cucino i pomodorini butto i semi direttamente nell'orto e questi crescono spontaneamente quindi sono abbastanza una varietà diciamo che ha trovato forse il suo equilibrio naturale che è quello che vorrei proprio per tutte le mie urticole che trovi nel loro equilibrio e di anno in anno spuntino naturalmente creando una sorta di giardino commestibile dove le piante crescono da sole a speranza lavoriamoci forse la parte più complicata di tutto questo è la raccolta perché può succedere come in questa pianta che i pomodori siano incastrati sotto bisogna un attimino cercarli però a parte questo le lavorazioni sono state minimali dei pomodori massima resa naturalezza che si riversa nel sapore e nella salubrità dei nostri prodotti quindi direi bene così se avete qualche informazione qualche domanda qualche curiosità da chiedere vi aspetto nei commenti se volete sapere come sono stati piantati questi pomodori c'è un video già fatto quindi siccome sono abbastanza lazzarone vi direi di andarlo a guardare e non vi spiego nulla se il video è stato di utilità vi ringrazio che vi chiedo un mi piace iscrivetevi al canale insomma fate quello che volete alla prossima ciao